... ... ... ... ... ... Maurizio, il significato di queste nuove scuderie e l'inaugurazione dopo tanti lavori e tanto impegno anche economico e non solo per avere una lizza particolare e diciamo uguale a quella di Piazza Grande. Sì, il significato è quello che volevamo riprodurre quello che poteva essere la lizza e l'ambiente che si trovano nei nostri stratori in Piazza Grande quindi l'angolatura delle tribune e la zona di Borgunto. Non avevamo a disposizione nel terreno nostro questa possibilità perché mancavano alcuni metri sia in partenza che dopo il buratto il 27 gennaio di quest'anno abbiamo trovato l'accordo con la famiglia Ciofini per prendere una parte del loro terreno e da lì si sono mosse subito i lavori in vista della giusta di giugno. Lavori che anche durante il lockdown con quelli che erano preposti alla cura dei cavalli quindi poche persone abbiamo portato avanti la speranza era quella di fare le gioste quindi di avere subito un riscontro purtroppo come tutti sappiamo nel giugno e nel settembre abbiamo fatto niente quindi sono state annunciate. La conferma che Sant'Andrea a livello tecnico non si è mai fermata da oltre 20 anni 30 anni sempre avanti la dimostrazione è proprio in questi lavori che è un quartiere che non si ferma mai va sempre avanti a cercare la perfezione laddove la si va sempre a trovare per migliorare quel millimetro che poi dopo può mancare o può fare la differenza la domenica in piazza. Sì, devo dire che quando nel 2004 prendemmo questi 7500 metri non pensavamo di poter fare proprio la riproduzione perfetta e comunque era un terreno di questa dimensione tant'altro non si poteva fare. Abbiamo vinto comunque anche senza l'ampiamento della lizza è chiaro che adesso c'è sempre più la cura la tenacia la voglia di essere più precisi come dicevi te quindi avere una lizza che si rassomiglia di più a quella che poi si trova nel sabato notte o la domenica pomeriggio è meglio per cavalli e giostratori. Maurio Dionigi capitano di Porta Sant'Andrea inaugurazione delle nuove scuderie Franco Ricci nuova lizza lizza perfetta la stessa identica pendenza e non solo angolature di piazza grande quanto può aiutare a livello tecnico questi ulteriori lavori fatti alle scuderie? Molto dico subito molto perché già i giostratori già dalle volte prima praticamente da prima delle modifiche e dopo le modifiche hanno trovato questa modifica hanno trovato questa differenza nell'allenamento e tutto hanno trovato altre prospettive altre angolazioni anche la simulazione delle tribune la partenza che abbiamo fatto simile a Borgunto influisce molto sia a livello di giostratore che anche a livello di cavallo oggi poi la giornata si conclude con la sfilata dei bambini e la giosta di peneto che per voi ha un particolare significato quest'anno forse ancora di più visto l'assenza totale di correre giosta di fare allenamenti di andare in piazza che giornata sarà oggi? ma è una tradizione che si porta avanti da 13 edizione questa qui è la 13esima edizione quindi avevamo voglia di giostra e sai in mancanza di giostra per gli amanti della giostra e tutto diciamo che le giostre come ho detto anche altre volte a parecchi la giostra per gli amanti si vorrebbe fare anche tutte le domeniche cosa che si sognerebbe quest'anno è un'annata che dobbiamo scordarci al più presto possibile speriamo di arrivare al prossimo anno che si libera di questo virus maledetto e di arrivare competitivi alla giostra oggi sarà un altro momento di giostra un altro momento che i nostri ragazzi oltre che sarà un divertimento per loro sarà un momento anche di confrontarsi un momento che anche se è un divertimento però scommetto che dentro di loro un pochino di agonismo un pochino di tensione ce la mettono lo stesso di agonismo di agonismo